Tra 15 minuti siamo là. Entreremo nel Tempio Celeste da Terra. Perché non direttamente? Esiste in un differente stato quantico, sfasato di poco dalla nostra realtà. Non si raggiunge con mezzi convenzionali. Cosa? Siamo soli. Nessuno ci aiuterà. Dobbiamo farcela, oppure... Noi ce la faremo. Diavolo. Che cos'è? Non lo so. Punta verso di noi. I dei anziani abbiano pietà. Allacciate le cinture. Devo portarla giù. L'ingresso del Tempio è a 15 chilometri da qui. Tra i boschi al chiaro di luna. In un altro momento sarebbe rilassante. Non ti facevo un tipo da vita all'aperto. Mia madre e io vivevamo vicino a una foresta simile. Mi ricorda quei tempi. Una volta finito qui, potremmo andarci. Vaffanculo! Siamo a piedi. L'onda d'urto ha fritto i cavi. Allora andiamo. Non abbiamo molto tempo. Che ci fanno qui? Credo che cerchino l'amuleto. Dobbiamo dirgli di Shinnok. Chiediamo una tregua. Portatemeli! Forse no. Nel bosco. Forza! Il loro silenzio. Nascosti. Ermac. Li percepiamo. Ma la foresta bulluna di anime. Sì. Sono vicini. A fuoco, eterno diviso. Io ti vedo. Jackie, attenta! L'hai ferito? Ne rispondi a me. Ah! 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 Grazie a tutti. Stacolo, ti stai divertendo? Ti vuoi ancora? Torna strisciando sotto la roccia, Reptile. Aspetta, hai bisogno di acqua. Testa in su. Ci vedi? Sì, sì, è annebbiato, ma... Va meglio. Che spettacolo. Continuiamo dopo. Prima le signore. Io prendo Ermac. Il scappato. Sei la progenia di Jackson Briggs. E ne sono orgogliosa. So cosa gli hai fatto. A tua madre abbiamo preso le braccia. A te prenderemo la vita. A te prenderemo la vita. Oh, spettacolo! Spettacolo! Per questo, per te. No! 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 C'è il sogno che ha fatto. Ah! Questo è per te, papà. Sciocca! Schiaccia, schiaccia, Thor! Tuoi occhi brillano. Noi strappiamo! Inganno! Falsità! Basta inganni. Solo una bella scazzottata. Ne vuoi ancora? No! 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 Devi aiutarci, Kotal Kahn. È tardi per il regno della terra. Shinno cura il suo padrone. Spettacolo! Assaggia la mano di Osh-Tek! Le vuoi ancora? Zero punti compassione. Basta guardarmi il sedere. Meglio stare con noi. Basta così. Fa' cura! Non so voi, ma questo è sempre stato il mio sogno. Che razza di sogni. Schiavi. Voi morirete stanotte. Mita! Insieme avete resistito a grandi avversità. Altri guerrieri non si sarebbero battuti altrettanto bene. Grazie, Gran Maestro. Rimorro qui per rispedire Kotal Kahn nel regno esterno. Dirigetevi al Tempio Celeste. Il regno della terra dipende da voi.